Benvenuti a Longevity Now, Longevity Now FL, sono Luigi Fontana, direttore scientifico del Charles Perkins Center, Royal Prince Alfred Clinic e Longevity Program dell'Università di Sydney. Oggi, a grande richiesta, vi faccio un piccolo trattato sulla vitamina D. Un sacco di amici mi chiedono, ma ci sono tutte queste notizie contrastanti, uno studio dice una cosa, un altro studio dice un'altra cosa, ma cos'è che si sa veramente sulla vitamina D? Cosa fa la vitamina D? E devo prendere un supplemento di vitamina D? Sì o no? Quindi cercherò di fare un riassunto di quello che conosciamo ad oggi, ottobre 2022. Bene, iniziamo. Iniziamo con una trattazione sistematica precisa. Iniziamo dagli studi epidemiologici. Ci sono tantissimi studi epidemiologici che suggeriscono, ripeto, suggeriscono che le persone che hanno dei livelli più elevati di vitamina D nel sangue hanno un rischio più basso di sviluppare, di fare fratture delle ossa, malattie cardiovascolari, cancro, diabete, demenza, depressione e malattie autoimmunitarie. Come vi ho già spiegato in tantissimi video, voi dovete iniziare a capire, perché altrimenti quando sui giornali o in televisione vi dicono scoperta la cura per il cancro, scoperta la cura per il diabete, se uno va a vedere poi lo studio scientifico a cui si riferiscono, bisogna capire se sono studi di associazione epidemiologici, in cui si segue una corte di uomini e donne e si va a vedere, in base a dei parametri dietetici, peso, fumo e tanti altri, se queste svilupperanno una patologia, o è uno studio clinico randomizzato. Perché gli studi di associazione epidemiologici, per definizione, non possono dimostrare una relazione causa-effetto. E questo esempio che farò oggi è la chiara evidenza, perché sì, è vero che le persone che hanno dei livelli più elevati di vitamina D quindi sembrerebbero avere un rischio minore di sviluppare tutte queste lunghe patologie che vi ho fatto vedere qui, no? Ma in realtà poi vedremo che non è vero. E perché c'è questa falsa associazione? Falsa non è falsa, è che quando facciamo degli studi epidemiologici, ci sono un sacco di fattori confondenti e per quanto statisticamente noi andiamo a correggere per questi fattori confondenti, non riusciamo tuttavia a essere sicuri che ci sia una relazione causa-effetto. Perché? Perché per esempio le persone che hanno dei livelli più alti di vitamina D molto probabilmente fanno più attività fisica, quindi passano più tempo ad aria aperta e quindi prendono il sole indirettamente, probabilmente mangiano delle diete più sane e tante altre cose che potrebbero spiegare perché queste persone hanno un rischio più basso di sviluppare tumori, diabete, malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi gli studi che invece ci dimostrano un effetto, un'associazione causa-effetto, cioè possiamo dire con una forte evidenza scientifica che quell'intervento è responsabile di quell'effetto clinico, sono gli studi randomizzati in cui prendo una popolazione e la divido in due gruppi in maniera random, una metà segue l'intervento e una metà il gruppo di controllo, non fa nulla o fa un altro tipo di intervento. Ok? Quindi cosa sono i risultati di questi studi randomizzati sulla supplementazione di vitamina D? Beh, come vedete qua, la stragrande maggioranza degli studi randomizzati, anche gli ultimi tipo questo Vital Trial, che è un studio enorme, quindi super, si dice, statisticamente potente, non dimostra nessun effetto protettivo della supplementazione, cioè prendere un integratore di vitamina D3 non protegge, vedi, non, fatemi ripetere, non proteggere da fratture, da malattie cardiovascolari, diabete, demenza, cancro e anche appunto dalle fratture. No, si sapeva praticamente che la vitamina D era importante per la prevenzione delle fratture. In realtà in persone, perlomeno in persone sane, middle age, old adult, cioè adulti, anziani, sembrerebbe che in coloro che non hanno deficienze chiare di vitamina D, non hanno una bassa, una massa, una bassa massa ossea, non hanno osteoporosi, la supplementazione con vitamina D3, per cinque anni, duemila unità al giorno, non ha nessun effetto significativo, che non significa che in persone che hanno, come vedremo fra un attimo, bassa massa ossea, deficienza di vitamina D, invece abbia una funzione. Ma diciamo che nella popolazione normale, che fa una vita normale, che sono relativamente sani, sembrerebbe da questi studi randomizzati che non abbia un effetto protettivo. Uno potrebbe chiedersi, ma allora magari non fa proprio niente. No, perché ci sono due eccezioni. Sempre in questo grandissimo studio Vital, che fra poco vi faccio vedere i dati, invece la supplementazione con vitamina D3 riduce in maniera significativa il rischio di sviluppare diverse malattie autoimmunitarie e riduce in maniera significativa il rischio di sviluppare tumori avanzati metastatici. Questo è il risultato dello studio sulle malattie autoimmuni, vedete, pubblicato sul British Medical Journal quest'anno, è uno studio enorme, vedete, hanno reclutato 25.871 uomini e donne, enorme, quindi ha una potenza statistica enorme. E per 5 anni, sono stati studiati per 5.3 anni, vedete, follow up di 5,3 anni, sono 4 gruppi, un gruppo placebo, quindi non c'era dentro niente, un gruppo prendeva vitamina D 2000 unità al giorno, un gruppo prendeva omega 3 acidi grassimi o omega 3 un grammo al giorno e un quarto gruppo prendeva vitamina D più omega 3. I risultati in sintesi sono che coloro che hanno assunto l'integratore di vitamina D hanno avuto una riduzione del 22% delle malattie autoimmunitarie. fantastico. In un altro studio, sempre pubblicato, sempre di questo Vital, pubblicato su JAMA Network Open, si è visto che la supplementazione con vitamina D non ha un significativo effetto nel ridurre l'incidenza di cancro to cure, ma quando hanno fatto analizzare invece i cancri avanzati rispetto a chi all'inizio dello studio era libero da cancro, poi l'hanno studiato per 5.3 anni e quelli che hanno preso la vitamina D del 2000 unità al giorno praticamente avevano una riduzione del 17%, vedete l'HR di 0.83, del 17% dell'incidenza di tumori metastatici avanzati. E la cosa più importante è che questo effetto era spiccato praticamente in quelli che avevano un BMI sotto 25. ok? Vedete infatti che l'HR di 0.62, quindi un 38% di riduzione in coloro che avevano un BMI inferiore a 25 e avevano assunto 2000 unità al giorno di vitamina D. Quindi questo ad oggi, questo ad oggi, è quello che sappiamo, tutto il resto è fuffa, ok? Questo in base degli studi come questo, potentissimi, ci dicono che molte delle associazioni che ci vendono tante persone, non faccio i nomi, che vanno a sproloquiare in televisione, sui giornali, ci vendono delle informazioni che non sono scientificamente corrette. Tra il resto questo dato protettivo nei confronti dei tumori avanzati metastatici è confermato da una meta-analisi di diversi studi randomizzati che hanno visto che anche dosi più basse di 2000 unità, 400-800 unità al giorno di vitamina D, sono efficaci nel ridurre l'incidenza, l'insorgenza di tumori avanzati metastatici, ok? Quindi l'evidenza è forte, malattie immunitarie e tumori avanzati. Allora, voi mi chiederete, e quindi cosa devo fare? Allora, siamo chiari, la cosa più importante che ognuno di voi deve fare è scegliersi un medico bravo e competente. Il fai da te è pericoloso ed è ancora più pericoloso seguire influencers, bloggers, ex giornalisti, ex modelle che pontificano di cose che non sanno. Quindi sceglietevi un bravo medico, capace, che vi aiuti a farvi strada, a trovare il vostro cammino. Perché dico questo? Perché innanzitutto, come ho detto, questi studi erano fatti su persone relativamente sane, questo Vital e altri studi randomizzati. Ma innanzitutto bisogna capire se voi avete una deficienza di vitamina D. È solo il vostro dottore, come vi spiegherò nelle prossime diapositive, lo può fare. Perché se voi avete una dieta molto limitata o totalmente evitate il sole, e quindi siete sempre al chiuso durante le ore centrali della giornata, come spesso avviene per esempio in inverno nel nord Italia, nel nord Europa, nel nord America. Quindi il sole non lo vedete per mesi. Oppure usate sempre creme solari tutto il giorno con protezione 30. o siete in una casa di riposo e quindi siete sempre al chiuso, oppure avete una patologia che causa malassorbimento, una celiachia, un morbo di Crohn, una retocolterocerosa, o avete avuto un intervento di bypass gastroenterico, o siete affetti da osteomalacia, osteoporosi, iperparatorodismo, cioè un aumento del PTH, avete ipo, ipercalcemia, ipofosfatemia, o avete una patologia renale, o avete avuto un trapianto renale. Tutte queste sono patologie che praticamente causano deficienze da vitamina D. Un altro esempio è persone che hanno dei livelli elevati di fosfatasi alcalina, ma hanno dei livelli normali di transaminasi. Oppure che prendono farmaci che abbassano i livelli di vitamina D, come per esempio gli antiepilettici. Oppure siete delle persone che avete una pelle particolarmente scura. Tenete conto che degli studi hanno dimostrato che per esempio gli abitati africani del centro Africa, soprattutto quelle persone che hanno questa bellissima pelle colorebano, quindi è dovuta a delle concentrazioni di melanina enormi, filtrano i raggi ultravioleti a tal punto che la produzione di vitamina D in queste persone è del 93-97% più bassa rispetto a una persona con una pelle chiara. Praticamente la loro melanina ha un effetto protettivo simile a quello di una crema con un SPF di 15-30. Perché? Perché loro sono stati, si sono evoluti in centrafica a livello equatoriale, il sole lì è fortissimo e quindi per proteggere l'organismo, per proteggersi dai raggi ultravioleti, da questo filtro, la melanina funge da filtro. Chi invece è nato da genitori che per centinaia, migliaia di anni sono vissuti per esempio in Inghilterra, tendenzialmente hanno la pelle chiara, i capelli biondi, gli occhi azzurri, le lentigini. In queste persone l'esposizione al sole, anche una minima esposizione al sole, produce molta più vitamina D perché non hanno lo screen della melanina. E quindi è chiaro che una persona, una persona con la pelle molto scura, che va a vivere in un paese tipo la Svezia o l'Inghilterra o la Danimarca, in cui i livelli di raggi ultravioleti sono molto minori che all'Equatore, può incorrere a deficit di vitamina D. E quindi un bravo medico conosce tutte queste cose e vi sa guidare, sa fare dei test che vi spiegherò fra un attimo esatti per misurare i vostri livelli di vitamina D e poi decide se fondamentalmente avete bisogno o non avete bisogno di una supplementazione. Se invece siete delle persone sane, cioè il vostro medico ha deciso che voi non avete delle deficienze di vitamina D, a quel punto quali sono gli interventi comunque che ci garantiscono dei livelli sufficienti o meglio ottimali di vitamina D nel sangue? Sono tre. Innanzitutto è una adeguata, intelligente, ma non eccessiva esposizione al sole. L'altra è una dieta sana e vi spiegherò il perché fra qualche diapositiva. E infine, in base alla zona in cui vivete, alla stagione, al tipo di lavoro che fate, può essere indicata una supplementazione con piccole e moderate dosi di vitamina D, circa tra i 600 e le 1000 unità al giorno. Ok? Questi livelli adeguati a di vitamina D nel plasma devono essere, come vedremo, almeno superiori a 30 nanogrammi ml, che sono l'equivalente di 50 nanomole litro alla fine dell'inverno. Cioè, se voi misurate alla fine dell'inverno la vitamina D nel sangue, questa dovrebbe essere superiori a 30. Una volta che poi instauriamo un regime di stile di vita o di integratori, l'indicazione è di non misurare la vitamina D, non prima di tre mesi, è inutile misurare la prima di tre mesi. E soprattutto la cosa importante è non continuare a misurare. Una volta che abbiamo stabilito che con quel tipo di stile di vita e supplementazione, all'alettino dell'inverno abbiamo dei livelli superiore a 30, a quel punto lì possiamo continuare a fare quello che facciamo, senza continuare a misurare la vitamina D, e almeno che non cambiamo drasticamente il nostro stile di vita e la nostra supplementazione. Ok? Bene. Ora parliamo di come funziona, di come l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamine D. Voi sapete che quando la luce solare praticamente va a colpire la nostra pelle, il colesterolo presente nella nostra pelle viene trasformata in 25-hydroxyvitamina D, la quale poi viene convertita a livello renale in 1-25-hydroxyvitamina D, che è quella attiva. Vi spiegherò fra un attimo perché è importante e come possiamo migliorare la conversione da 25-hydroxyvitamina D, che è una provitamina, alla vitamina attiva, che è la 1-25-hydroxyvitamina D. È un cosiddetto molto importante, quindi provate pazienza e seguitemi. Quindi, Michael Olich, che è uno dei massimi esperti mondiali, se non il massimo esperto mondiale, di vitamina D, dice che in diversi suoi articoli che siamo di fronte a un'epidemia, una pandemia di inadeguata esposizione al sole. E lui, nei suoi lavori, dice che per mantenere dei livelli adeguati, quindi superiori a 30 enogrammi ml di vitamina D, dovremmo esporre le nostre braccia e le gambe, almeno queste, farò vedere fra un attimo i dati, meglio ancora, tutto il tronco, due o tre volte a settimana, fin tanto che la pelle diventa un pochettino rossa, non che diventi bruciata, ma un pochettino rossa, un eritema modesto. Questo modesto eritema, in base agli studi che ha fatto lui ed altri, dovrebbe produrre all'incirca 15.000-20.000 unità di vitamina D. Naturalmente, quanti minuti dobbiamo esporci alla luce del sole dipende da che ora della giornata, dall'ora della giornata, dalla stagione, dall'attitudine in cui viviamo, dalla copertura nuvolosa e dal tipo di pelle che abbiamo, come ho spiegato prima. è chiaro che durante l'inverno e la mattina presto, il pomeriggio dopo le 5, le 6, anche in estate fondamentalmente, i raggi ultravioleti sono talmente filtrati dall'ozono, perché diventano obliqui, che fondamentalmente impattano l'atmosfera in maniera obliqua, e quindi passano attraverso più ozone, e quindi la potenza nel produrre vitamina D viene quasi annullata. E quindi, almeno che non viviamo in una zona tropicale o subtropicale, o per esempio in Australia, anche in inverno, insomma il sole qui nella parte della giornata è potente, molto probabilmente noi dobbiamo prendere un supplemento di vitamina D. Se viviamo a Milano o a Trento, da diciamo ottobre fino a marzo, le giornate sono corte, passano la maggior parte del tempo al lavoro, e quindi è quasi impossibile avere, esporre un'adeguata parte del corpo per produrre vitamina D, e quindi probabilmente dovremmo prendere un supplemento di vitamina D. Olic ha stimato che per 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 questo un'esposizione del 25% del corpo è sufficiente per avere quello che ci serve, quello che normalmente ci potrebbe dare 2000 unità di vitamina D. Ora, sfatiamo alcuni miti, esporre viso e mani non è sufficiente, vedete in questo studio hanno 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 studiato l'effetto dell'esposizione ai raggi ultravioleti in joule per centimetro quadrato esponendo soltanto faccia e mani, vedete la produzione di vitamina D è pochissima, invece se esponiamo al sole tutto la parte superiore upper body, vedete che c'è all'aumentare della 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 dose in in joule per centimetro quadrato fondamentalmente aumenta in maniera importante la vitamina D e ancora di più se esponiamo tutto il corpo, se siamo in bikini fondamentalmente, ok? Per fare un esempio, una persona che vive a New York che ha una pelle chiara che si espone all'inizio dell'estate tipo a giugno che espone braccia e gambe a mezzogiorno per questa persona sono sufficienti dai 5 a 15 minuti due o tre volte a settimana per ottenere il livello di vitamina D necessario superiore a 30 nanogrammi e mele, ok? Quindi praticamente braccia e gambe per 5 15 minuti al giorno in questo periodo dell'anno. Dopodiché è meglio non esporci per lunghi periodi dal sole perché voi sapete che un'eccessiva esposizione dal sole innanzitutto invecchia precocemente la pelle il fenomeno di photoaging e poi comunque aumenta il rischio di tumore alla pelle e di melanomi e soprattutto dobbiamo evitare le bruciature le scottature dal sole sono dannosissime un altro punto che volevo volevo su cui volevo soffermarmi è che un crescente numero di studi suggerisce che l'effetto dell'esposizione al sole non è benefica soltanto per la produzione vitamina D ma sembrerebbe che il sole il magnifico sole ha un effetto importante nel migliorare la funzione immunitaria avete c'è questa bellissima review artico pubblicato su Nature Review Immunology nel 2011 da Hart e colleghi che spiega vi costito di leggerla come l'esposizione al sole intelligente e moderata innesca una cascata di effetti antinfiammatori autoimmunitari mediati dal sistema immunitario e quindi protezione da psoriasi sclerosi multipla e asma non sono curative ma sono coadjuvanti altri studi dimostrano che l'esposizione al sole c'è una collega qui australiana che fa degli studi bellissimi che l'esposizione al sole va a innescare una cascata metabolica molecolare che produce benessere psicologico avete la sensazione quando si va al sole quel sole che non è eccessivo è un bel sole che è come se fosse una carezza un massaggio questo è legato al fatto che il sole scatena una cascata metabolica che aumenta la produzione di endorfine le endorfine sono queste molecole simile morfina eroina che danno questo senso di euforia e questo naturalmente è uno studio epidemiologico e quindi va preso con le pinze però è uno studio fatto in Svezia che suggerisce che la mortalità nelle persone che evitano il sole è due volte maggiore che in quelle invece che si esponono regolarmente ma intelligentemente moderatamente al sole insomma il sole nella giusta misura fa bene a tantissimi fattori basta non esagerare basta sapere di nuovo cosa facciamo cibo e vitamina D allora noi sappiamo che alcuni cibi sono ricchissimi di vitamina D ma purtroppo fanno schifo prendete l'olio di fecato di merluzzo quando era piccolo mia madre mi ricordo mi correva dietro e mi dava un cucchiaio di olio di fecato di merluzzo perché io abitavo a Trento e a Trento gli inverni erano terribili non vedevi mai il sole era freddissimo neve e quindi praticamente ogni tanto mi dava il cucchiaio di olio di fecato di merluzzo che fa schifo però sappiamo che anche i pesci pesci quelli grassi ricchi di omega 3 contengono vitamina D perché naturalmente questi pesci lo assorbono lo producono perché nuotando per tutto il giorno vicino alle superfici marine vengono praticamente colpiti da raggi ultravioleti e producono anche la loro vitamina D il latte delle mucche che pascolano all'aria all'aria aperta e quindi al sole hanno della vitamina D i funghi quelli non coltivati ma quelli selvaggi hanno della vitamina D e sempre di più quando vivo in America si trovano al supermercato tutto un insieme di cibi che sono supplementati con vitamina D mi ricordo in America c'era il latte con la vitamina D il succo di arancia con la vitamina D c'erano i cereali della colazione con la vitamina D quindi uno può andare può consumare alcuni di questi cibi può andare a vedere sull'etichetta di questi cibi supplementati quanta vitamina D c'è e iniziare un pochettino a calcolare però da quel che si legge da quello che dice Olich ed altri solo con il cibo più o meno si arriva a coprire non più del 40% del fabbisogno giornaliero di vitamina D e quindi è chiaro che l'esposizione corretta al sole è fondamentale se non possiamo esporci al sole dobbiamo prendere un supplemento di vitamina D ok in inverno nei paesi freddi un concetto bellissimo importantissimo che forse pochi conoscono è che però la nostra dieta al di là di fornire vitamina D e sembrerebbe che sia fondamentale nel migliorare la l'attività la potenza della vitamina D come? beh come vi ho spiegato quando il sole colpisce la 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 pelle trasforma il colesterolo in provitamina D nella 25 OH D ma questa non è attiva la forma attiva è la 1 25 HD e quello che in questo lavoro pubblicato su Nature Communication nel 2020 si è dimostrato è che una dieta ricca di fibre vegetali quindi cereali integrali non raffinati legumi verdure fondamentalmente modifica il microbiota intestinale selezionando dei batteri che producono butirrato uno degli acidi grassi a catena corta che come in altri video spiegato hanno un effetto anti-infiammatorio e anti-malattie immunitarie ma soprattutto questo butirrato sembrerebbe da questo studio essere in grado di aumentare la trasformazione del pro-ormone 25 OHD a quello attivo quello veramente attivo l'1 25 OHD che praticamente si lega al recettore per la vitamina D e fa tutte le funzioni induce tutte le funzioni di cui abbiamo parlato no? prevenzione di malattie autoimmunitarie dei cancro avanzati e nelle persone deficienti di vitamina D non quelle che hanno vitamina D ma quelle che hanno una deficienza di vitamina D proteggono molto probabilmente dalle fratture dell'osso perché questo lo sappiamo chiaramente chi è deficiente di vitamina D ha un aumento dell'ormone paratiroideo il PTH è normale appena cala la vitamina D aumenta il PTH e questo aumenta il riassorbimento di osso di calcio dall'osso per mantenere l'omeostasi ossea e calcica ok quindi se tu hai dei livelli sufficienti di vitamina D la supplementazione non ti riduce le fratture ma se tu hai una carenza di vitamina D è chiaro che la supplementazione è terapeutica e riduce il riassorbimento osseo innescato dal PTH quindi bisogna conoscere le cose e bisogna in questo caso essere medici ora velocemente sono quasi alla fine parlando di criteri di cut off di deficienza la società internazionale di endocrinologia definisce una persona come deficiente che ha una deficienza di vitamina D quando i livelli di 25 HD sono inferiori a 20 nanogrammi ml ha un insufficienza non una deficienza tra 21 e 29 invece sopra i 30 come detto è considerato normale alcuni alcuni però l'evidenza scientifica veramente è ancora da dimostrare suggeriscono che i livelli dovrebbero superiore a 40 nanogrammi ml ma se avete dei livelli superiore a 30 nanogrammi ml va bene altro concetto importante che non tutti conoscono è che quando noi chiediamo al nostro medico di misurare la vitamina D lui bisogna chiedere che misuri la 25 HD totale perché alcuni laboratori misurano soltanto la 25 HD3 non la totale e se misuriamo solo la 25 HD3 questo potrebbe sottostimare i vostri veri livelli di vitamina D quindi chiedete di misurare la 25 HD totale ok poi sempre le linee guida diverse linee guida ci dicono che per esempio l'istituto di medicina americano ci dice che nelle persone tra gli 1 e 70 anni 600 unità al giorno di vitamina D dovrebbero essere sufficienti nei mesi invernali perché se uno si espone al sole durante l'estate non serve e nelle persone con più di 70 anni 800 unità al giorno sono sufficienti mentre la società la fondazione la società di necronologia e la fondazione internazionale di osteoporosi raccomandano tra gli 800 e le 2000 unità al giorno naturalmente nelle persone che hanno appunto una deficienza in base al tipo di deficienza attenzione non seguire il principio se un po' fa bene di più fa meglio è meglio perché la vitamina D consumata un supermio di vitamina D consumata in maniera eccessiva può avere degli effetti gravissimi sulla salute sempre questi istituti hanno stabilito che il livello l'upper limit cioè il livello riguarda che non deve essere superato sono le 4000 unità al giorno per gli adulti e i bambini ancora più basso perché dei livelli di vitamina D superiore a 4000 assunti cronicamente non una sola una sola volta cronicamente praticamente possono aumentare i livelli di calcio perché la vitamina D riassorbe è il calcio dai reni e dall'intestino e quindi fondamentalmente se abbiamo dei livelli eccessivi di vitamina D con il supplemento con il solo è impossibile perché c'è un effetto omeostatico dopo un certo livello fondamentalmente grazie alla melanina fondamentalmente non si produce più vitamina D ma per con i supplementi se assunti in maniera eccessiva si possono aumentare a livello patologico i livelli di calcio plasmatici e quindi causare dei problemi di aritmia anche mortali e oppure comunque se non si arriva a questi livelli così alti di calcemia comunque dei livelli cronicamente più alti di calcemia aumentano il rischio di calcificazioni e di posizione di calcio nel cuore nelle arterie nei reni con delle conseguenze gravi per le salute quindi di nuovo attenzione non fate di testa vostra fatevi seguire da un bravo professionista da un bravo medico da un bravo un medico competente fatemi finire dicendo che ho scritto a parte i video gratuiti che trovate sul mio canale youtube ho scritto dei libri alcuni in italiano tradotto in francese uno in inglese che adesso è stato tradotto in cinese e sta per essere tradotto in giapponese sfortunatamente gli italiani non sono interessati ahimè in cui spiego do una visione globale perché naturalmente la vitamina D è uno dei pezzettini di puzzle che devono essere messi insieme a vedere quando ho fatto un puzzle da mille pezzi no ci sono diversi pezzi che devono essere accoppiati in maniera precisa altrimenti non riuscite a finire il puzzle e più o meno la stessa cosa è con la salute col benessere con la longevità fondamentalmente bisogna conoscere e riconoscere quali sono i pezzi e saperli accoppiare incastrare in maniera perfetta per ottenere un puzzle completo bello e finito e in questo libro ho provato in questi libri ho provato praticamente a riassumere in maniera semplice non per tecnici fondamentalmente quello che negli ultimi 30 40 anni di professione medica come specialista di medicina interna di metabolismo come professore che ha lavorato negli Stati Uniti alla Washington University a Roma all'Istituto di Sanità Salerno Brescia e Londra e adesso in Australia alla University of Sydney ho imparato attraverso i miei studi di ricerca la mia pratica clinica i congressi e la collaborazione con tantissimi colleghi esperti dei vari settori in giro per il mondo e sto cercando di educare di fornire informazione il più possibile corretta con un metodo scientifico alle persone che hanno voglia di ascoltare che hanno interesse a promuovere la propria salute quella dei propri cari dei propri figli dei propri familiari dei propri amici a breve probabilmente a febbraio mi dice oggi la mia editrice uscirà un nuovo libro perché molti amici hanno detto sì questi libri sono molto interessanti però poi alla fine a noi piacerebbe avere qualcosa di più pratico cosa mangiare quali tipi di attività fisica fare come farli quali tipi di attività meditativa fare e quindi ho scritto di recente un libro un manuale più pratico il manuale della Healthy Longevity Wellbeing appunto che racchiude un'ottantina di ricette e tutto un insieme di esercizi fisici che un programma di attività fisica che può essere svolto e di esercizi meditativi che possono essere svolti per mettere in pratica i concetti teorici che ho spiegato in questi libri e con questo vi saluto come sempre spero che questi video siano di interesse siano utili se sono utili vi consiglio di diventare sottoscrivere diventare dei subscribers del mio canale se avete voglia condividete con gli amici con i vostri familiari i contenuti perché più divulghiamo conoscenza e più influenziamo altre persone a cambiare lo stile di vita e se tante persone cambiano lo stile di vita in qualche maniera influenziamo il sistema produttivo perché se delle persone informate richiedono certi tipi di cibo certi tipi di servizi certi tipi di infrastrutture per poter fare attività fisica all'aria aperta piscine e via dicendo è chiaro che se la richiesta è tanta tanti bussano alla porta è chiaro che la politica le istituzioni e i produttori di cibo e altri servizi e prodotti si devono adeguare quindi se aumentiamo la platea di persone intelligenti che conoscono sono informate in maniera corretta è più facile modificare l'ambiente a nostro favore e di nuovo con questo vi saluto e vi ringrazio alla prossima e vi ringrazio